Lavoro in corso in via Lambro dove quest'estate verrà completata la realizzazione del nuovo Fisioradi Center, poliambulatorio multifunzionale e palestra polivalente che dall'attuale struttura di via 24 Maggio aprirà ora i suoi servizi nel quartiere di Vismara. Nel nuovo centro ci saranno tante cose in più, ci sarà probabilmente anche questo. Non ci sarà solo un servizio o dei servizi in più da un punto di vista sanitario, vogliamo dare una copertura a 360 gradi al paziente. Un lavoro complesso e compresso in un anno, con la progettazione cominciata a settembre 2020 e i cantieri partiti lo scorso mese di marzo. Il centro nasce da un vecchio cappannone artigianale con questa palazzina che vedete qui dietro che ospita gli uffici. Quindi al piano superiore della palazzina abbiamo gli uffici. Al piano inferiore della palazzina abbiamo invece tutta la parte diagnostica che coglierà la risonanza magnetica, la raggi X, la TAC, la MOC e la mammografia. Nella parte posteriore invece, quella che realmente era prima il cappannone artigianale, andremo a collocare tutti gli ambulatori e nella parte invece nuova che abbiamo costruito, che vedete laggiù in fondo, lì ci vanno le vasche terapeutiche. L'edificio è stato ristrutturato con tutti i criteri di adeguamento sismico e quindi ha una struttura slegata nei quattro settori e inoltre abbiamo fatto anche una grande riqualificazione energetica per cui dai pannelli fotovoltaici sulla copertura a il cappotto di notevoli dimensioni tutto attorno all'edificio in maniera da dargli un'efficienza energetica notevole. Questa struttura verrà completamente rivestita con dei pannelli di lamiera stirata e verranno due grandissime insegne per l'edificazione del centro con il simbolo di Fisioradi e SRL. Tempo di consegna dei lavori, direi che se tutto va bene attorno al 20-25 di luglio avremo completato l'opera. Tenendo presente che abbiamo incominciato il 15 di marzo facendo un'operazione di notevole importanza con fino a 30-32 persone contemporaneamente dentro il cantiere. Grazie. Grazie.